Ancora un'ondata di arresti di massa in Turchia per sospetti legami con la presunta rete golpista di Fethullah Gülen. Altri 115 mandati di cattura sono stati emessi con l'accusa di aver finanziato l'organizzazione o falsificato documenti in vista del tentativo di colpo di Stato dello scorso anno. Almeno 53 dei ricercati sono già stati arrestati in una maxi-operazione condotta dall'antiterrorismo turca in 15 province, tra cui Istanbul e Smirne, proseguono le ricerche degli altri sospetti. Nell'ultima settimana sono 1024 le persone finite in carcere, lo riferisce il ministero degli interni di Ancora, la maggior parte per i legami con la presunta rete golpista, altre in relazione con operazioni di terrorismo.